Dopo il terremoto delle ultime ore, Francesco Macri pensa ad un ricorso al TAR e la strada potrebbe essere intrapresa anche da Estra. Da qualche giorno Macri non è più presidente della Multi Utility della Luce e del Gas per via del procedimento di vigilanza dell'ANAC, l'autorità dell'anticorruzione svolta nel corso di questi mesi in seguito ad una segnalazione. Ne è conseguita una delibera che ha fatto decadere Macri dal suo incarico definito inconferibile secondo i termini di legge. Macri e il suo legale Gaetano Viciconte non accettano questa interpretazione dell'ANAC e hanno già deciso di difendersi impugnando la delibera di fronte al TAR del Lazio. Nel frattempo all'interno di Estra è avvenuto il passaggio della carica di presidente protempore all'amministratore delegato Alessandro Piazzi di Siena. Il percorso della giustizia amministrativa potrebbe essere intrapreso anche dalla stessa Estra e forse anche dallo stesso comune di Arezzo che ne detiene la maggioranza relativa alle quote.